Lui ha esposto i suoi sentimenti ma dice di aver paura di essere tradito per cui non si impegna di più che fare questo video per rispondere a Patrick che mi segue su YouTube ora se un uomo diciamo si espone cioè si dimostra innamorato eccetera ma fino a un certo punto e come vincolo ti mette il fatto che ha paura che tu possa tradirlo in qualche modo possa distrarti a tratta da altri uomini nel momento in cui lo dichiara ti pone un vincolo logico ti pone un blocco logico cioè ti sta dicendo che da un punto di vista logico vorrebbe maggior sicurezza e affidabilità da parte tua ora però qui le possibilità sono due bisogna vedere se quello che lui dice è vero oppure no cioè nel senso che è anche un'ottima scusa no questa contro la quale tu non è che hai possibilità di intervenire perché se lui ti dice ah guarda tu sei troppo affascinante oppure che tu mi tradisca non è che ti puoi imbruttire o come dire diventare sciatta affinché lui possa avere la certezza che nessuno ti vuole e quindi sicuramente non lo tradirai e quindi potrebbe essere tranquillamente una scusa che uno utilizza per evitare di impegnarsi bisogna bisognerebbe capire quando lui fa questa dichiarazione qual è tutto il non verbale che c'è dietro perché se lui mentre dice questa cosa qua lo vedi teso scostante oppure con muscoli contratti una postura più di chiusura magari si tocca al naso in questo modo significa che è una scusa fondamentalmente se invece quando lo dice è quasi come fosse goduto diciamo da dei segnali di gradimento emotivo significa che devi tranquillizzarlo su un piano logico razionale di dirgli che sei santa maria goretti vergine ma da un punto di vista invece emotivo devi fargli vedere che altri uomini sono comunque interessati a te perché gli dai modo di accendere la competizione quindi la strategia va calibrata sulla base quindi la prossima volta bisogna cercare di portarlo a capire a fare queste dichiarazioni insomma a esporsi e vedere semplicemente basta fare una domanda ma cosa ne pensi perché non ti vuoi impegnare e vedere se cosa corrisponde diciamo tutto il non verbale che corrisponde alla verbalizzazione di quello che ti dirà questo è fondamentale per poi impostare la strategia secondo quanto ho detto prima bene per questo video è tutto iscriviti al canale se ti iscrivi al canale avrai la possibilità come avuto patrie di fare una domanda e ricevere un video di risposta a questo servizio è gratuito solo per gli iscritti però al canale e inoltre se il video ti è piaciuto condividilo sui tuoi social facebook twitter youtube o quant'altro bene per questo video è tutto ti saluto ciao ciao